Buongiorno a tutti e grazie a voi ragazzi per aver accolto il nostro invito e soprattutto al pubblico presente, a tutte le persone che sono in questa sala, che hanno appreso della nostra iniziativa da tutti i nostri canali social, canali social che oggi ci aiutano per la prima volta a far sì che questo liceo sia davvero una casa di vetro, quindi in questo momento siamo in diretta streaming sul canale YouTube della scuola, visibile anche dalla pagina Facebook della scuola. I vostri colleghi, le classi del liceo scientifico sono insieme a noi, non fisicamente ma virtualmente, perché sono nell'aula magna del liceo scientifico a seguire la diretta, ce ne sono altre di sotto nell'aula cinema che oggi viene aperta per la prima volta a seguire la diretta, anche perché abbiamo, voi lo sapete, problemi anche legati al numero della capienza di questa sala, quindi anche tutti i problemi di sicurezza che non consentirebbero la presenza di tutti voi studenti a questa iniziativa, iniziativa che è realizzata dalla nostra scuola che apre di fatto l'anno scolastico, quindi il nostro anno scolastico quest'anno noi siamo un liceo molto vivace da questo punto di vista, facciamo tante cose, tanti incontri, tanti personaggi, abbiamo una notte nazionale del liceo che ogni anno celebriamo insieme ai colleghi di tutta Italia che ci permette di lavorare con tutti gli indirizzi tutti insieme, quindi diciamo che la nostra vivacità oggi prende il via con la presenza dell'onorevole Gero Grassi che è stato membro della documentare di inchiesta del caso Moro, ma tutto questo è possibile, la realizzazione di questo evento da poter vedere anche all'esterno è stata possibile e devo dire veramente grazie anche alla collaborazione preziosissima dell'associazione Benedetto XVI, l'associazione culturale Benedetto XVI che ha fornito tutta la parte tecnologica, quindi le telecamere, i fari, tutto quello che voi vedete per realizzare questo questo incontro in attesa che la scuola possa dotarsi piano tutta la strumentazione di cui abbiamo bisogno. Ringrazio il professor Girlanda che oltre a tenere le fila della parte tecnica ha tenuto anche le fila della richiesta di incontro con l'onorevole Gero Grassi ed è subito nel tema di questa mattinata perché per avere oggi l'onorevole Gero Grassi qui a Gubbio noi abbiamo cominciato a contattarlo a marzo. Questo significa che l'onorevole ha una agenda fittissima, non soltanto perché nel 2018 ricorre il terrestresimo anno delle città di Giafani e quindi della morte dell'onorevole Aldo Moro ma perché l'onorevole Gero Grassi è un figlio di una delle grandi verità, forse quella negata come scrive nel suo libro, perché il caso Moro, voi ragazzi che avete sicuramente visto, avete preparato questo incontro con i vostri insegnanti, ha tante sfaccettature, ha tante verità ha tante cose ancora da dire ma le cose che ha ancora da dire possono essere comprese soltanto se appieno ne comprendiamo la parte iniziale, cioè da dove tutto è cominciato. Devo dire che noi ieri sera abbiamo avuto il piacere di una convivialità, abbiamo stato stato a cena con l'onorevole e praticamente l'onorevole stamattina mi ha chiesto hai dormito stanotte perché insomma era abbastanza inquietante il quadro che lui faceva. Io la scuola a voi che fate la quinta ma ci sono anche tutti gli altri ragazzi collegati con noi, a voi che fate la quinta la scuola vi regala la possibilità di conoscere uno dei fatti di cronaca ma uno dei fatti politici ma uno dei fatti storici più importanti degli ultimi 50 anni e ve lo regala la scuola, quindi fatene tesoro, ve lo regala attraverso la voce di una delle persone che più di tutti ha studiato questo caso ma che è stato anche nell'onorevole Moro un rapporto umano profondo perché lui lo ha incontrato da bambino e la figura di Aldo Moro è stata la figura che anche politicamente perché Gero Grassi che qui accanto a me è un politico di razza, è stato comunque condizionato in positivo ovviamente da questa presenza e da questa figura. Siccome io so che le cose da dire sono tante e che voi ragazzi sicuramente rimarrete affascinati da questo racconto, ringrazio l'onorevole Gero Grassi per la sua presenza affinché possa raccontare una storia che fino ad oggi è stata in larga parte negata. Buongiorno, una volta si diceva cari amici vicini e lontani, vicini voi lontani si ascoltano perché voi avete un'altra cosa che è molto positivo. Lo dico perché la scuola mia era una scuola diversa, queste cose non esistevano, non si facevano, oggi per fortuna le possiamo fare. Cercherò di essere quanto più chiaro possibile, vi anticipo che sentirete molte cose che sono macabre o notizie di reato brutte. Sappiate che se le possiamo raccontare significa che non guardiamo al passato ma guardiamo al futuro. Le scuole italiane che hanno il coraggio di affrontare Casomoro non sono scuole che guardano a ieri, che guardano a domani perché la verità sul Casomoro non resuscita un cadavere. Dà a voi maggiore libertà ma... Quindi io ringrazio vivamente la scuola, la dirigente, i docenti, il professor Girlanda, l'associazione Benedetto XIII perché mi dà la possibilità, pensate un po', in quattro anni di fare oggi la 579esima puntata del Casomoro. Sabato mattina ho fatto un liceo di Siracusa, sabato sera un liceo di Catania. Mercoledì c'ho il liceo Aristosseno di Taranto, venerdì il De Santis di Altamura, quindi poi sabato sono a Fiume Freddo di Catania da capo, io faccio tutti i giorni. Ieri sera quando siamo andati a cena e mi hanno fatto un interrogatorio che manco se avessi ucciso 20 persone, ma un interrogatorio positivo, l'ultima domanda da una preside dici, ma lei ha paura? Sì, perché la paura è un sentimento umano e per quello che io dico ho paura, ma che devo fare? Non posso tornare indietro, sono partito e ora andiamo avanti. Che cosa vi racconterò oggi? Una sintesi di 6 milioni di pagine che sono il caso Moro. attenzione, non i libri e i giornali, ma gli atti processuali derivanti da 8 processi Moro, 4 commissioni terrorismo e stragi, 2 commissioni Moro, una commissione Mitrokin, una commissione P2. Le commissioni sono commissioni di inchiesta parlamentari che hanno la stessa funzione della magistratura, fino all'arresto delle persone. Io le cose che vi racconterò ve le dirò non con il mio pensiero, ma con le parole degli atti. E devo stare attento a dire le parole degli atti perché mi inseguono in tanti. Alcuni per fissare la data, altri per altri motivi. Perché c'è un pezzo dell'Italia che se mi tappasse la bocca sarebbe felicissimo. Io non vendo libri, li scrivo e li regalo. Perché chi vende libri ha una finalità economica. Io non ho finalità economica. Perché se no mischiamo i morti, le persone fatte a pezzi, le bugie con la speculazione economica. Io stampo il libro e dove vado porto 5-6 copie, guardate che vanno nella borsa e le regalo, come ho fatto con la scuola. Però se qualcuno di voi volesse il libro, va sul mio sito www.gerograzie.it e trova tutto. Anche il libro da scaricare. Così trova mille filmati, 10.000 fotografie e tutti gli atti del caso morto. E quello che dico è tutto scritto è provato. E nonostante questo ho paura. Partiamo. 3 novembre 1941. Sulle mura delle nostre città, quando dico nostra intendo l'Italia, è scritto credere, obbedire e combattere. L'Italia sta in guerra. I diciottenni come voi, col moschetto, stanno in Albania, in Grecia, in Russia e in Africa a combattere. E la mattina, mentre il capofamiglia va a lavorare, la mamma di tutti quelli che stanno in guerra, passa dal comune, entra nell'Androne dove c'è l'albopretorio e legge i nomi. Se per caso trova il figlio, la prima è avvisare il marito che sta in campagna, in bottega a lavorare. La seconda è sperare che quel figlio quanto prima gli venga riportato a casa seppur morto. La condizione dell'Italia nel 1941 è che in Umbria oltre l'80% delle popolazioni non ha l'acqua potabile e i servizi igienici. E l'82% delle strade è a Breccia. Circa il numero di cento della popolazione Umbra non sa leggere e scrivere. La scuola è regolamentata dalla legge del ministro Coppino del 1876, ministro della pubblica istruzione. E che cosa dice la legge sulla scuola che rimane in vigore fino al 1 gennaio 1948 e anche oltre? Che i ragazzi fino a 11 anni devono andare a scuola, ma se qualcuno non ci va non gli succede assolutamente nulla. E la maggior parte dei ragazzi non va a scuola, non per andare a giocare alla Playstation, ma per andare a lavorare senza essere retribuiti, lavoro minorile, sfruttamento minorile, nelle fabbriche, negli opifici, in campagna. In questa condizione il professore Aldo Moro che ha 25 anni entra all'università di Bari per la sua prima lezione. Voi immaginate che lui si è laureato in giurisprudenza in tre anni rispetto a corso di quattro e sui 21 esami ha preso 13-30 in lode, cioè il massimo, e gli altri otto quando andava male ha preso 30, cioè Leonardo da Vinci. Lui entra in classe in piena guerra, in pieno fascismo sapendo che il capo del governo Benito Mussolini nel 36, 37 e 38, rivolgendosi a un carcere della provincia di Bari, carcere di Turi, aveva detto a due persone spegnete quei cervelli. Chi stava nel carcere di Turi? Il fondatore del Partito Comunista, Antonio Gramsci, e Sandro Pertini, socialista, che poi sarà Presidente della Repubblica. Il fascismo non fu solo oppressione fisica, fu anche oppressione psicologica. Mussolini disse spegnete quei cervelli. Oggi la scuola cerca di sprigionare i vostri cervelli. Moro entra in classe e dice una frase che è il paradigma di tutta la sua vita, la persona prima di tutto. Voi immaginate che durante uno degli otto processi Moro un brigatista, Valerio Morucci, che non è brigatista, è un infiltrato dei servizi segreti segreti nelle Brigate Rosse? Alla domanda del magistrato come si è comportato Moro nei 55 giorni di prigionia, risponde. Ha tentato di capire perché noi ragazzi, perché le Brigate Rosse non sono i vostri padri, siete voi? Le Brigate Rosse avevano un'età che andava dai 20 ai 35 anni. Moro dice, ha tentato di capire perché noi ragazzi avessimo abbandonato le scuole, le università e le fabbriche per inseguire il mito dell'azione armata. E se gli avessimo dato tempo, dopo aver portato i socialisti, i comunisti al governo, avrebbe portato anche noi. Perché diceva a noi, è un brigatista che parla, dobbiamo stare tutti insieme con lo Stato per combattere il più grande fragello dell'umanità, che è la povertà. Un tema ancora attuale. Il 2 giugno del 1946, quando l'Italia sceglie tra Repubblica e Monarchia, il professor Moro viene eletto alla Costituente, diventa deputato e lì fa un capolavoro del quale Bruno Vespa non parla. Io glielo ho detto a Berlino, in un convegno e quindi lo dico in tutte le parti d'Italia. Bruno Vespa a porta a porta ci fa ascoltare l'intervista al figlio di Totò Riina, che è un insulto agli italiani onesti. Qual è il capolavoro di Moro alla Costituente? Ragazzi, fino al 31 dicembre del 1947 l'Italia ha avuto lo Statuto Albertino, che entrò in vigore il 1848. Lo Statuto Albertino aveva un'idea di fondo. il re concedeva ai sudditi alcuni diritti. La Costituzione italiana è il contrario. La Repubblica riconosce alle persone i diritti. Qual è la differenza? Se la vostra dirigente vi concede il diritto della ricreazione arriva un giorno che la dirigente può revocarlo. Se la dirigente dice invece che il diritto alla ricreazione non ve lo concede, ve lo riconosce in quanto studenti di questa scuola, nessuno lo può togliere. Mi spiego. Se i diritti li dà il re, il re li toglie. Se i diritti sono connessi alla nascita della persona, quei diritti non li può togliere nessuno. Di quali diritti parliamo? Perché non dobbiamo essere generici. Libertà personale, libertà politica, libertà religiosa, libertà culturale. Lo studio, diritto alla salute, diritto al lavoro, diritto alla comunità. Tutti i diritti inseriti nella prima parte della Costituzione. E Moro spiega che non li dà lo Stato. Sono connessi alla persona. E la persona, attenzione, non è il cittadino. Il cittadino è quello che nasce. La persona è quello che sta. Viene concepito. Tant'è che il nostro diritto penale persegue il cittadino che uccide un feto. Se io spingo una donna incinta lungo le scale, la donna non si fa niente, ma il feto muore. Io sono arrestato. Ho ucciso un cittadino, ma ha ucciso una persona, che è quella che sta prima del cittadino. Moro dice che i diritti sono della persona e quindi nessuno glieli può togliere. Perché fa questo? Perché lo Stato liberale fascista ci aveva tolto tutti i diritti. Per capire dove siamo vissuti, nel 1943, in un liceo di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, mentre i ragazzi, quei pochi che vanno a scuola, arrivano i nazifascisti. Prendono dodici ragazzi, li portano in piazza e li impiccano. E all'impiccagione assiste tutta la scuola. È una rappresaia nazifascista contro i partigiani. Non avendo trovato i partigiani, prendono dodici ragazzi del liceo, li portano in piazza e li impiccano. Tra i ragazzi che assistono all'impiccagione c'è una grande donna della politica italiana, Tina Anselmi, il primo ministro donna della Repubblica Italiana. Quel ministro, amica di Moro, che il 23 dicembre del 1778 fa approvare la legge 833 che è l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, diritto alla salute. Per cui oggi in Italia la salute mia, è la salute sua, è la salute dell'ultimo disoluzione del dubbio, come del più grande industrialità, è trattata allo stesso modo. Questa ragazza diventa partigiana e poi nel 1976 diventa ministro, Tina Anselmi, che è stata presidente della commissione. In questo contesto, stiamo parlando del 46, Moro fa il capolavoro della Costituzione che è ancora vigente e si pone il problema della scuola italiana. Perché? Perché Moro vuole rendere la scuola media obbligatoria, ma non come lo statuto albertino, che se uno non andava a scuola non gli succedeva niente. La obbligatorietà della scuola media, Moro la vuole collegare alla pena per i genitori che non mandano i figli a scuola. Qual è la pena? I genitori vengono arrestati. Quando scatta l'obbligatorietà, se il ragazzo non va a scuola, i carabinieri si presentano. Il ragazzo o va a scuola o i genitori vengono arrestati. Perché noi italiani abbiamo il diritto-dovere dell'istruzione. Non è soltanto un diritto, è anche un dovere. Ma il percorso per la obbligatorietà della scuola media sarà lungo, arriveremo a 63, quando Moro diventa presidente del Consiglio. Nel frattempo, nel 1953, in Italia nasce una cosa che voi, quando siete nati, l'avete trovata anche al di là del buonsenso. La televisione nasce a Torino, bianco-nero, con un'ora di programma al giorno. Nel 1957 Moro, ministro della pubblica istruzione, capisce che la scuola può utilizzare la televisione per educare gli italiani. Tenete presente che in Calabria, Sicilia e Sardegna il livello di analfabetismo è il 40%. L'Umbria ha lì stiamo al 40%. E che fa Moro? Da ministro. Chiama il direttore della RAI, Arlata. Gli dice dobbiamo portare la scuola a casa degli italiani. È una parola. Ragazzi, vi do dei numeri. A Gubbio, nel 1957, c'erano 12 televisioni. 12, non mi chiedete chi sono i proprietari, perché non lo so, però dall'archivio della RAI, a Gubbio, c'erano 12 persone che c'erano la televisione. Forse qualche albergo, qualche parrocchia, qualche partito, qualche bar. 12 persone. E lui dice le atti. 12 persone. Mica è facile portare la televisione a casa degli italiani, che non ce l'ha nessuno. Che la televisione per accendersi dovevi premere il pulsante un quarto della prima, si doveva riscaldare e poi usciva. Le trasmissioni erano la sera. I tecnici del ministero e della RAI concepiscono un programma che voi non conoscete, per colpa nostra, ma è uno dei programmi più riusciti della storia della RAI. Si chiamava Non è mai troppo tardi. Un programma duplicato in 198 stati. Io capisco che siamo nel campo e nel tempo del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi, ma non è mai troppo tardi. È stato duplicato in 198 stati. Quando la RAI ha fatto il concorso per il maestro e ha concepito il programma, il direttore della RAI va da Moro. Gli spiega come si deve sviluppare questo programma e gli dice abbiamo fatto un concorso, il maestro è bravissimo. Però poi aggiunge ha un difetto. Voi dovete sapere che Moro era un grande imitatore. Faceva le imitazioni di Alighiero Noschese, che è stato il più grande imitatore italiano, che faceva l'imitazione di Moro. Cioè lui imitava Alighiero Noschese che faceva l'imitazione sua. chiede al direttore della RAI, il ministro Moro, scusi ma qual è il difetto? Moro è terrorizzato dal fatto che il difetto possa essere fisico. Perché nel 57, nelle nostre realtà, c'è tanta gente invalida e mutilata tornata dalla guerra, senza bracci, gambe, occhio. In più, tutti lo hanno dimenticato, nel 57, nelle nostre città, anche a Gubbio, gira un mostro che si mangia le braccia, le mani, le gambe e i piedi delle persone. Nessuno ve l'ha mai detto. Questo mostro si chiama Talidomide. è una medicina che assumono le donne incinta. Siccome la medicina è sbagliata, una volta che la donna si è presa questa medicina, la medicina assorbe gli arti inferiori e superiori del nascituro. E nascono mostri. Voi immaginate che nel 2017 la Camera ha chiuso il contenzioso con i ragazzi nati nel 56, 57, 58, colpiti da Talidomide. Ok, Moro è terrorizzato, nella televisione del 57, di mandare uno invalido in televisione. Gli chiede, scusi, ma qual è il difetto? Moro raccontava a noi questa scena e faceva l'imitazione del direttore della RAI. Il direttore della RAI va in crisi, diventa rosso, inizia a balbettare, come tutti i balbuzzienti, inizia a battre i piedi per darsi forza, ma lui non era balbuzziente. Prende la rincorsa e dice, balbettando, e Moro faceva imitazione a noi ragazzi della provincia di Bari, signor Ministro, il malbuzziente, e qui si bloccava. Cioè, dopo è, non andava. Lo fece tre, quattro volte. Moro non sapeva che fare. Fino a che il direttore della RAI prende la rincorsa e dice, signor Ministro, il maestro è comunista. E Moro disse, vabbè, io sono democristiano, ma a me non mi interessa la tessera del maestro. Mi interessa che il maestro educhi gli italiani a leggere e scrivere. una riflessione. La classe politica di oggi una risposta del genere non la darebbe, perché la classe politica di oggi, frutto di questa società, occupa pure il posto dell'usciere. Moro dice, a me la tessera del maestro non mi interessa. Che cosa fa questo maestro? Vent'anni di trasmissione. Tre milioni e mezzo di italiani che acquisiscono la licenza elementare. Siccome qua vedo tante ragazze delle quali io invidio la gioventù, che lui invidio l'età, in omaggio della... sappiate che la persona più anziana che prese la quinta elementare grazie a quel programma fu una donna calabrese nel 1968 aveva qualche anno più di voi 88 anni e come si svolgeva questo programma? Che da lunedì al venerdì in televisione il maestro Manzi su una lavagna non questa quella col gessetto insegnava A-E-I-O-U per la verità sulla lavagna c'era un'altra lettera che io in un liceo del nord ho sbagliato io e ho detto A-E-I-O-U stava anche la mutina i ragazzi mi hanno chiesto giustamente ma che cos'è la mutina? La mutina era l'H si chiamava mutina in quella scuola perché non dava segno non dava tono l'H ragazzi in quel periodo non si trattava come dovremmo fare oggi a qualche ministro spiegare il congiuntivo e il condizionale che una cosa è dire avessi una cosa è dire abbia no lì si trattava di insegnare le vocali perché gli italiani non sapevano leggere e scrivere e che cosa succediva alle 17 di ogni pomeriggio che la gente anche a Gubbio prendeva la sedia da casa e andava a trovare dove stava la televisione lui ha detto alle Acri tutti andavano alle Acri o tutti andavano al partito comunista o in parrocchia o all'hotel Ducale dove c'era la televisione portandosi la sedia da casa e portavano con sé un quaderno con la copertina nera e non le penne colorate belle che avete voi ma il lapis il lapis era la matita dei muratori che sulle pareti quando costruivano facevano la somma 2 più 2 perché non lo sapevano fare a memoria e quindi 2 più 2 quelli che sapevano scrivere lo scrivevano sui muri con il lapis questo programma determinò un successo immenso perché realizzò la mobilità di sedia cioè le persone si portavano la sedia per assistere al programma i cinema pochi interrompevano il film dopo il primo tempo e con il televisore trasmettevano nella sala il programma perché? perché la gente non è che andava al cinema per vedere il film andava al cinema per vedere il programma e pagava il biglietto e vedeva il film un altro mondo in quel mondo gli italiani dettero prova di grande saggezza perché vogliono recuperare l'oscurantismo anche culturale del fascismo e gli italiani del 57 che sono non i vostri padri i vostri nonni non conoscevano il fascismo nemmeno la mortadella però volevano imparare volevano crescere volevano guardare al domani Moro ambisce a realizzare la obbligatorietà della scuola media ovviamente se tu devi portare il numero degli aguni in Italia da 400 mila a un milione e mezzo devi costruire le scuole devi assumere i presidi i direttori i bidelli come si chiamavano all'epoca i professori i maestri l'accusa che sparano a Moro brutalmente molti giornali è sperpero di danni e poi un'accusa ancora più infamante vuole consentire che anche alla scuola media il figlio del medico corre il rischio di sedersi accanto al figlio dell'operaio quasi che voi per scegliervi il compagno di banco gli chiediate la professione del padre voi sapete che non è questo il motivo qualcuno di voi si starà dicendo ma la preside ha detto chi è perché ha ucciso Aldo Moro e questo sta a parlare della scuola termino sulla scuola dicendovi che la prima notizia del rapimento e della morte di Moro non è del 78 ma è del 1963 per andare in Francia serviva il passaporto che avviene nel 63 che un generale di Sabinieri il capo di tutta Italia il generale Giovanni De Lorenzo tenta di fare in Italia un colpo di Stato cioè di imporre una dittatura militare nel piano solo del generale De Lorenzo è scritto che Moro deve essere rapito e ucciso dal tenente colonnello Roberto Podestà dei Carabinieri tenete presente che i Carabinieri che mi amano hanno fatto tante cose buone tanti Carabinieri sono stati uccisi ci proteggono ci difendono ma i Carabinieri hanno intentato l'ultimo colpo di Stato in Italia nel 1977 io sono nato nel 58 qual è la scuola a Moro la scuola media obbligatoria perché è un problema culturale anche e soprattutto un problema economico se voi che non state qui che state qui oggi a scuola non andaste a scuola una decina stava a casa a divertirsi gli altri stavano a lavorare e senza essere pagati a 6 a 7 anni o a 8 sfruttamento minorile l'imprenditorialità italiana si arrabbia contro Moro che vuole la scuola media obbligatoria e scatta il piano solo che porterà all'omicidio di Aldo Moro che per fortuna non si realizza nel 64 sentite questa scena che non sta in nessun libro e in nessun film l'ha raccontata solo un giornalista il 14 luglio del 64 il presidente del consiglio Aldo Moro sente dalla RAI che ha un solo canale che il presidente della Repubblica Antonio Segni ha ricevuto al Quirinale il generale Giovanni De Lorenzo per la formazione del nuovo governo ma lui è in carica l'8 agosto quando gli italiani stanno in ferie Moro e il vice presidente del consiglio Giuseppe Saragat vanno a Quirinale nel paese si parla di Tintinard di Sciabole cioè il colpo di stato è partito è una frase di Pietro Nenni socialista la RAI è circondata dai carabinieri lì sta seduto Segni a Quirinale lì ci sta Saragat e qui ci sta Moro Moro gli spiega segni che il colpo di stato è partito dittatura militare tenete presente che nel 64 in Ispagna governava Francisco Franco dittatore in Portogallo c'era Salazar dittatore e in Grecia stavano per arrivare i colonnelli e non era la Repubblica consolidata di oggi non lo ascolta Moro fa finta di non capire ad un certo punto Saragat che è un avvocato antifascista piemontese che poi sarà Presidente della Repubblica si alza di scatto la sua sedia rotola all'indietro gli mette a gridare come un pazzo verso il Presidente della Repubblica e gli dice basta sappiamo tutto del 14 luglio l'incontro con De Lorenzo generale dei Carabinieri ti denunciamo alla Corte Costituzionale per tradimento della Repubblica nel fare questo si getta sopra assegni bypassando la schivania e gli mette le mani al collo nel tentativo di strangolarlo non stiamo nel liceo di Gubbio cosa che non si dovrebbe fare mai da nessuna parte stiamo a Quirinale a quel punto i greci qui ci sono i ragazzi del liceo classico i greci parlerebbero della tiuche il caso io che sono un fervente manzoniano parlo della Divina Providenza che cosa succede a Segni che Saragat gli mette le mani al collo ma non lo strangola Segni lancia un grido cade all'indietro con la sedia e va in coma per un ictus celebrale dietro la porta del Presidente della Repubblica ci sono sempre due carabinieri che sentono gridare ed entrano e trovano Moro bianco libido dalla paura Saragat che peraltro era uno a quale piaceva il Barolo che è un vino piemontese rosso in volto e Segni a terra in coma dal coma Segni si riprende un mese dopo ma perde l'uso mani braccia parola intelletto tant'è che si dice che lo aiutano a firmare le lettere di divisione lui non è in grado più di firmare e si rimette da Presidente della Repubblica Moro fa eleggere Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat che il primo atto che fa manda l'esercito a circondare i carabinieri che hanno circondato la RAI una caricatura tutto questo gli italiani non lo sanno dice ma lei come lo sa è perché con la desecretazione degli ultimi atti noi abbiamo potuto leggere sono anni felici per l'Italia non è che si fa soltanto la scuola media obbligatoria si fa la nazionalizzazione dell'energia elettrica si fanno le autostrade cambia il paese il 3 agosto del 1974 io devo saltare un po' di anni perché se no siamo fino a domani alle ore 19.58 questa è una scena macabra Aldo Moro arriva alla stazione Termini di Roma sale su un treno che deve partire alle 20.05 quel treno è il Roma Monaco Roma Monaco 20.05 3 agosto 74 ragazzi ma lo dico soprattutto ai professori non c'è nessun posto d'Italia nel quale io dica treno 20.05 3 agosto 74 Roma Monaco e la gente capisce di che treno stiamo parlando la colpa non è vostra quel treno è l'Italicus che quella sera dopo tre ore prima di Bologna salta in aria e Moro viene fatto scendere due minuti prima che parte il treno che cosa scrive la magistratura dopo che quel treno salta in aria la dinamite utilizzata per l'esplosione dell'Italicus è la stessa di Piazza Fontana 12 dicembre 69 che cosa successe che la stessa dinamite fu messa a Banca a Milano Banca Nazionale dell'Agricoltura e salta in aria a Banca la stessa dinamite fu messa a Maggio a Piazza della Loggia Brescia nel corso di un comizio e la gente saltò in aria la stessa dinamite fu messa il 2 agosto del 1980 a Bologna nella strage della stazione di Bologna la scena macabra qual è? lo stragismo italiano ha prodotto duemila morti e ventimila feriti non è che quelli hanno deciso di morire chi si è trovato? anche ragazzi studenti bambini che cosa è successo? che nel 74 non c'era il DNA la ricomposizione dei corpi delle vittime non è avvenuta per corpo ma per sesso mi spiego nella stessa bara pezzi di una donna o di un uomo o di un uomo ma non della stessa donna perché come si facevano ad individuare i pezzi delle persone dilaniati dalle bombe considerate che le bombe stavano sotto le sedie delle persone in alcune in alcuni casi oltre 100 nelle bare consegnate ai parenti e mandate in tutta Italia perché nelle stazioni nelle ferrovie nelle piazze non è che stanno soltanto quelli di gubbio stanno gli italiani in 100 bare sono stati messi i tuffi prima di si giocare senza farle vedere alle famiglie perché perché non c'erano più le persone alcune persone sono state disintegrate da le persone e la pietas laica e cattolica italiana ha in po' di mettere i tuffi per dare la speranza ai parenti di avere un cadavere sul quale piangere e poggere un fiore non sto parlando della Nuova Zelanda sto parlando dell'Italia degli anni 70 e 80 quando alcuni genitori vostri erano già nati in questo contesto il 25 settembre del 74 Aldo Moro a Washington riceve questa minaccia dal capo del governo americano Henry Kissinger vivente la minaccia è virgolette presidente lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente presidente lei o la smette o la pagherà cara molto cara questo è un avvertimento ufficiale Moro ha paura è il presidente del consiglio l'Italia è minacciata dagli Stati Uniti d'America novembre 77 Moro passeggia in transatlantico con Vittorio Cervone che è un deputato amico suo di Latina e gli dice caro Vittorio a distanza di 30 anni dalla fine della guerra non possiamo più vivere in una internazia incompiuta dobbiamo costruire non ce l'abbiamo ancora l'Europa dei popoli spostando i comunisti da Mosca in Europa sconfiggendo l'inflazione e il terrorismo e poi chiedendo al popolo italiano chi tra noi e loro deve governare gli altri faranno l'ignoranza nel novembre del 77 a Roma viene gambizzato che voleva dire sparato alle gambe un deputato democristiano che si chiama Publio Fiori sui muri romani appare una scritta ripresa da Repubblica in prima pagina chi vuol vedere sul sito mio sta tu la scritta è oggi Fiori domani Moro ma nessuno interviene 17 gennaio 1978 qui vicino ad Arezzo a Villa Vanda la casa di Licio Gelli Licio Gelli è il capo della P2 la P2 che che ne dicano in televisione è un'associazione criminale Tina Ansemi che fu presidente della commissione P2 dice la P2 divide Italia in due da una parte i buoni dall'altra parte i cattivi chi stava nella P2 politici giornalisti magistrati imprenditori generali di carabinieri finanza esercito polizia poi io vado da Santoro in trasmissione e Santoro siccome c'è un personaggio famosissimo vicino alla P2 del quale vi dirò dopo Santoro per attutire un po' diceva vabbè ma erano tutti iscritti alla P2 e io gli dico in trasmissione no Moro non era iscritto alla P2 l'AP2 è un'associazione criminale non era l'associazione Benedetto XIII che viene qua alla scuola e offre l'organizzazione per sostituire la carenza della scuola come ha detto la presso l'AP2 è un'associazione criminale e chi si iscrive a P2 è un delinquente tant'è che Moro non si iscrive altri si iscrivono in questo contesto il 17 gennaio 78 Liceo Gelli che è il capo mondiale di questa P2 ad Arezzo chiama i generali comandanti di esercito aeronautica marina carabinieri finanza e polizia e dice i fratelli americani perché quelli iscritti alla P2 sono tutti fratelli i fratelli americani ci chiedono di interrompere il circuito politico voluto da Aldo Moro i comunisti italiani non devono andare a governo perché se no conosceranno i segreti della Nato poi aggiunge anche i russi ci chiedono di non mandare i comunisti italiani perché se i comunisti italiani a governo vanno democraticamente come faranno i russi a spiegare i cararmati di Budapest Ungheria 56 invasione sovietica 1968 69 Varsavia Jan Palak invasione sovietica chiedo scusa Praga invasione sovietica della cecoslovacchia e poi anni 80 la Polonia con Varsavia quindi russi e americani non vogliono Moro che realizzi la democrazia compiuta in Italia e non vogliono i comunisti del governo per la storia questi sei generali sono tutti iscritti alla P2 tutti e sei iscritti alla P2 quindi le forze armate italiane stanno nella P2 il giorno dopo 18 gennaio 78 da Torino parte un muratore che va a Roma a costruire una cella insonorizzata un ottimo colonnello dei Carabinieri colonnello Nicolò Bozzo pensa che le Brigate Rosse stanno per aprire Gianni Agnelli presidente nazionale della Fiat va a Roma al comando generale dei Carabinieri dove c'è un napoletano comandante generale che si chiama Mario De Sena che in seguito sarà arrestato per contiguità con la camorra napoletana e dice al generale De Sena il racconto di quello che stanno a fare le Brigate Rosse la risposta di De Sena è questa in dialetto napoletano tutto agli atti guagliò le Brigate Rosse stanno al nord sono fatti vostri ragazzi io una bugia dico non sta scritto fatti sta scritta un'altra cosa però io dico fatti perché dobbiamo mantenere purezza di linguaggio agli atti della magistratura dopo due mesi la tragedia di Viafani e quello il capo dei carabinieri dice sono fatti vostri dal nord quando noi siamo andati a Genova noi siamo una commissione inchiesta quando noi siamo andati a Genova a interrogare il generale Bozzo io che sono un rompiscatole che peggio non si può ho fatto più danni io alle Brigate Rosse agli imbroglioni del nostro Stato che 40 anni di magistratura scusate la presunzione io ho fatto al generale Bozzo una domanda scusi generale mi può dire che il rapporto c'era tra il generale dei carabinieri Francesco Delfino nato a Platì Reggio Calabria capitale mondiale della Nrangheta e il professore universitario Giovanni Sensani dell'università di Siena ragazzi vi ho detto che per me è la 579 puntata dopo la prima il professor Sensani che è vivente mi fa scrivere a un avvocato e dice lei non è autorizzato a parlare di me io oggi sto parlando la 579 volta di lui perché non esiste che un criminale possa dire a me di non parlare di lui c'è solo un mezzo per evitarlo e quando alcuni bravi che non erano quelli che andavano da Don Abbondio mi hanno avvicinato io sono andato a denunciare tutto perché noi dobbiamo funzionare così la legge viene prima di tutto e Moro diceva toglietemi due milioni di voti ma non toglietemi un atomo di verità e Moro aggiungeva la verità è rivoluzionaria e ci aiuta ad essere coraggiosi per cui io preside ho paura ma sono diventato coraggioso perché la devo raccontare questa verità il generale Bozzo la mia domanda il rapporto tra Delfino e Senzani dice ma lei perché lo vuol sapere scusi generale qui le domande le faccio io lei è interrogato siccome voi Fabrizio Moro lo conoscete ha vinto Sanremo quest'anno ma Delfino e Senzani no vi racconto chi sono però statevi mantenuti alla sedia perché iniziamo a ballare Delfino è un generale dei carabinieri che comanda il nord-est d'Italia e che invece di proteggere i cittadini partecipa ai rapimenti dell'andrangheta calabrese quando a Brescia viene rapito l'ingegner Soffiantini che è un suo amico la polizia va a casa sua e in un armadio trova uno scatolo in questo scatolo stanno 3 miliardi di lire in contanti quella criminale deficiente della moglie alla domanda della polizia ma scusi signore 3 miliardi in contanti perché risponde frutto dell'onesto lavoro di mio marito vengono arrestati il generale e la moglie sono morti siamo tutti meglio lui era contiguo all'andrangheta calabrese ma era un signore rispetto a Sensani che era un professore dell'università di Siena che faceva il consulente quando sentirete questa scena diciamo chi ride o sorride cambierà volte lavorava come consulente al ministero di grazia e giustizia nella stessa stanza dei giudici Minervini e Tartaglione che lui fa uccidere dalle Brigate Rosse perché ce l'ha con me Sensani perché lui è riuscito a dimostrare con la complicità della magistratura fiorentina di essere entrato nelle Brigate Rosse nel settembre 78 quindi dopo la morte di Moro io dimostro che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 77 quindi l'anno precedente a Sensani a Firenze di fronte al carcere di Solviciano lui ospita per tre giorni a casa sua due brigatisti pluri omicidi e pluri ricercati se tu a casa tua fai mangiare e dormire due persone che hanno ucciso quattro o cinque persone e che poi partecipano al rapimento Moro non puoi dire che non sai che cosa sono le Brigate Rosse chi è Sensani? quello che realizza con la camorra napoletana il rapimento di Ciro Cirillo e porta a casa tre miliardi di riscatto un miliardo e mezzo alla camorra un miliardo e mezzo alle Brigate Rosse chi è Sensani? uno che realizza negli anni Ottanta il rapimento del fratello del primo pentito delle Brigate Rosse Roberto e Patrizio Peci di San Benedetto del Tronto le cose che sentirete io le ho dette anche a San Benedetto perché dico sempre la stessa cosa come fa il rapimento del fratello? che c'entra il fratello? nulla lui vuole timbrare il caso Moro al quale non ha partecipato direttamente ma scrivendo le domande che i brigatisti facevano a Moro e allora che fa? rapisce questo ragazzo lo tiene chiuso per 55 giorni come Moro e lo uccide con 11 colpi di pistola come si pensava allora che fossero i colpi di Moro sentite come lo uccide 25 anni lo fa inginocchiare in bocca una scorpion che è una mitraglietta quella che uccide Moro e gli spara 11 colpi nel frattempo gli fa il film della morte e quando noi recuperiamo il filmato e vediamo il film che cosa viene fuori? che all'epoca anni 80 le telecamere erano grosse così sulla telecamera c'è materia cerebrale sangue un pezzo di lingua e un occhio e lui ha la moglie incinta a casa Roberto Peci 25 anni un muratore quando nasce la figlia la moglie la figlia come il marito è ucciso Roberta e quando Roberta arriva a 18 anni l'età vostra che per fortuna siete esenti da questi drammi vada al giudice e dice al giudice voglio vedere il filmato della morte di mio padre e che dice il film? che il ragazzo imbocca la mitraglietta dice pietà io non centro nulla con le brigate rosse fatemi tornare a casa ho una moglie in C e lì partono gli undici colpi voleva dire incinta ora ragazzi quest'Italia è la vostra la mia non è ma voi non è che potete pensare che venite al liceo studiate e avete risolto tutti i problemi perché per evitare questa Italia serve altro serve essere coscienza critica serve considerare queste mura questi libri questi banchi questa scuola non patrimonio dell'umanità patrimonio nostro lo Stato siamo noi e ogni spazio che noi lasciamo lo lasciamo ai criminali voi immaginate io che ho il comune di San Benedetto del Trondo ho dovuto raccontare questa scena dove stavano parenti e amici di Roberto Pecci chiaro? ecco perché Senzani mi ama eravamo partiti dalla domanda fatta al generale Bozzo che rapporto c'era tra il generale Delfino e il professor Senzani la risposta fu erano amici quindi un generale dei grabinieri potentissimo amico del capo culturale della Brigade Rosse il 18 febbraio del 78 da Beirut Beirut parte un telegramma su questo telegramma destinato ai servizi segreti italiani sta scritto che a giorni in Italia succede una rivoluzione del terrorismo i servizi segreti italiani prendono il telegramma sta sul mio sito lo scrivono e non succede nulla addirittura noi ci mettiamo 38 anni per capire chi manda questo telegramma perché il telegramma è cifrato la firma sta scritto Fonte 2000 noi oggi sappiamo dopo 38 anni l'abbiamo scoperto chi è Fonte 2000 il capo dei servizi segreti italiani a Beirut colonnello Stefano Giovanni dei Carabinieri 14 di marzo testimonianza in tribunale di ragazzi che si devono laureare e che sono alunni del professor Moro alla Sapienza Moro ha l'ultima lezione e viene accompagnato fuori da 7-8 ragazzi che in marzo quindi due giorni dopo si devono laureare e dal professor Francesco Tritto assistente di Moro che è quella persona che il 9 maggio riceve la telefonata di Morucci che gli dice Moro l'abbiamo ucciso e si mette a piangere in diretta una telefonata che è diventata famosa in tutto il mondo sull'uscio dell'università il professor Tritto dice a Moro presidente si ricorda che dopo domani il 16 marzo alle 16 lei ha la seduta di laurea Moro che era per Maloso dice ma scusi professore io non ho mai saltato una lezione nemmeno quando facevo il ministro degli esteri Tritto si rende conto di aver detto una cosa non interpretata bene e dice si presidente ha ragione io glielo ricordo semplicemente perché sarà la tua ultima seduta di laurea dice presidente lo sanno tutti lo scrivono i giornali oggi l'ha detto anche la televisione lei a giorni sarà eletto presidente della repubblica stiamo a 14 marzo 78 sentite la risposta di Moro certificata in tribunale dai ragazzi che stavano lì e che si donano le ore professore Tritto lei è affettuoso e generoso ma è ingenuo io non sarò mai eletto presidente della repubblica mi faranno fare la fine di John Kennedy ucciso a Dallas il 22 novembre 1963 per la storia Kennedy e Moro sono stati gli unici due capi di Stato che hanno battuto moneta Kennedy i due dollari Moro le 500 rile cartacee Kennedy nel 61 Moro nel 66 senza passare dalla Banca d'Italia Moro e dalla Federal Reserve USA Kennedy quando noi commissione di inchiesta abbiamo chiesto alla Banca d'Italia di spiegarci qual è la differenza di emettere moneta Banca d'Italia o governo italiano la storia dice la storia italiana che tutte le monete da Cavour in poi c'è sempre scritto Banca d'Italia la Banca d'Italia non al liceo di Gubbio ma alla commissione di inchiesta quindi alla magistratura non ha risposto perché qua in Italia ognuno pensa di essere potere assoluto 15 marzo 78 il titolo di un giornale romano che voi capite non ve lo spiego ma capite già il titolo chi sarà il novello brutto che all'idi di marzo ucciderà Cesare futuro presidente della Repubblica il giornale è OP di Mino Pecorelli bravissimo giornalista iscritto alla P2 lo stesso giornale il 17 marzo quindi giorno dopo la tragedia scrive E' Gli Alta che ha deciso Viafani che cos'è Gli Alta ragazzi vi do un consiglio i vostri professori sono bravi la scuola italiana è migliore di come la descrivete voi e i professori e noi abbandonate Wikipedia parlate con i professori perché ovviamente dopo oggi vi verranno dei dubbi per dirvi che cos'è Wikipedia sapete che mi hanno fatto a me hanno scritto che Moro l'ho ucciso io su Wikipedia perché Wikipedia è un'encicopedia dove tu puoi scrivergli essere Giotto Leonardo Da Vinci e Papa Bergoglio a me un pazzo ma scritto che io ucciso Moro questo è Wikipedia quindi ai professori torturate i professori torturateli culturalmente quindi fatevi dire da loro tutto quello che io non sono capace di spiegarvi o di dirvi per questione di tempo Gli Alta è la conclusione della seconda guerra mondiale un accordo tra inglesi russi e americani la parte conosciuta di Gli Alta dice che gli americani sovrintendono l'ovest dell'Europa i russi l'est nessuno di questi può andare a casa degli altri a farsi i fatti degli altri ma Gli Alta c'è un disagio che Moro conosce e che noi abbiamo conosciuto ora sull'Italia e sul Mediterraneo c'è il protettorato degli inglesi che non sono diventati anti-europei con la Brexit lo sono sempre stati voi immaginate che negli atti del governo inglese noi scopriamo nel 60 che gli inglesi scrivono che ci sono due matti qui sbagliano i matti ne stanno molto di più ma i matti individuati dagli inglesi nel 60 sono uno che si è messo in testa di rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico si chiamava Enrico Mattei fu ucciso a Bescapè Padilla cadde l'aereo morì lui un giornalista e il pilota l'altro scrivono gli inglesi è Aldo Moro malato di tumore all'autopsia risulterà completamente sano che si è messo in testa di superare gli accordi di Yalta creando l'Europa dei popoli e ponendo in una posizione di subordinazione dell'Europa la Russia e gli Stati Uniti lo dicono gli inglesi nel 1960 bene 16 marzo 78 Moro parte da Roma via del Forte Trionfale 79 che è la casa va alla chiesa di San Francesco deve andare alla Camera viene rapito in via Fani per capirci parte da Gubbio va a Fabriano deve andare ad Ancona viene rapito a Napoli secondo voi uno che da Fabriano deve andare ad Ancona va da Napoli? no che cosa vi voglio dire che via Fani è un passaggio distonico per chi deve andare dalla chiesa al Parlamento che cosa succede alla chiesa Moro e i due carabinieri entrano in chiesa i tre poliziotti restano fuori quando noi chiediamo al dottor Guido Zecca capo ufficio scorte ministero degli interni 78 come avveniva la scorta nel 78 il dottor Zecca dice noi prendevamo lo scortato da casa e via telefono dal ministero degli interni alla macchina della polizia lo seguivamo fino alla fine quindi eravate voi che dicevate alla polizia che cosa fare sì e come funzionava il radiotelefono nel 78 che non ce l'aveva nessuno soltanto la polizia che chi chiamava dal ministero degli interni lasciava il numero del telefonino su un rullino che stava all'interno della macchina della polizia allora dateci il rullino e capiamo chi ha chiamato per dire di andare in viafani il rullino è stato smarrito io che non parlo politichese il rullino è stato distrutto facciamo un salto di un anno quando il 29 maggio del 79 vengono arrestati a Roma i fidanzati delle Brigate Rosse Adriana Faranda e Valerio Morucci io sono andato a cena con Adriana Faranda due volte ho incontrato le Brigate Rosse singolarmente per capire in realtà alcune di loro io poi mi sono accorto e non sono andato a cena sapete che voglio dire che alcuni di loro come alcuni magistrati mi hanno avvicinato per capire che cosa stavo facendo e per sapere che cosa stavo facendo bene lì vengono arrestati i due fidanzati che cos'è questa casa? è la casa di un professore universitario che si chiama Giorgio Conforto chi è il capo del KGB italiano servizio segreto sovietico noi scopriamo che all'insegna della peggiore Italia quella che si muove sul Francia o Spagna purché se magna il professor Conforto professore universitario oltre ad essere il capo del KGB era un agente della CIA quindi degli americani e del SISMI servizio segreto militare italiano nella casa di questo professor Conforto quando Morucci viene arrestato in tasca gli trovano un biglietto sul biglietto sta scritto Antonio Esposito numero di telefono e indirizzo di casa chi è Antonio Esposito? è un ufficiale dei servizi segreti che la mattina del 16 marzo 78 lavora all'ufficio scorte del ministero degli americani è scritto alla P2 e Morucci ha i suoi dati in tasca ecco perché si spiega quello che è successo in Giappone cioè le brigate rosse sapevano gli spostamenti di Moro dall'interno da uno della P2 nella casa del professor Conforto vive anche la figlia professoressa universitaria una signora sposata che ha un difetto o un pregio se dipende dal punto di vista ha tanti fidanzati è sposata e ha tanti fidanzati uno di questi è Franco Piperno potere operaio professore universitario l'altro è un famoso giornalista di Repubblica Savelio Tutino molte volte alla sera cenano il professor Conforto la figlia uno dei fidanzati della figlia i due brigatisti quando noi interroghiamo i due brigatisti dicono che Tutino giornalista di Repubblica non di Perugia famoso come Biaggi Scalfari Montanelli Bocca non li riconosce pietosa bugia che cosa troviamo nella casa del professor Conforto carta intestata dello Ior del vescovo Marcinkus lo Ior è la banca vaticana noi scopriamo che Marcinkus vescovo è un agente della CIA iscritto alla P2 poi scopriamo ricordatevi Marcinkus perché ci ritorneremo poi scopriamo carta intestata dell'istituto Prodeo che è un istituto religioso vaticano il cui capo è un altro sacerdote padre Morlion che è il capo degli agenti della CIA in Italia quindi nella stessa casa CIA America KGB Russia Ior il peggiore vaticano Brigate Rosse e sismi tutti questi volevano morto Aldo Morlion è chiaro? bene torniamo in Viafani l'azione di Viafani dura due minuti e cinquantasei secondi la sparatoria cinquantasei secondi vengono sparati 93 colpi di arma da fuoco le Brigate Rosse dicono di aver sparato soltanto da qui noi scopriamo che due dei cinque morti sono stati uccisi da lì quando viene interrogato il capo dei servizi segreti Santo Vito di Taranto dice le Brigate Rosse avevano tiratori eccezionali quando noi interroghiamo Alberto Franceschini capo delle Brigate Rosse che però il 16 marzo sta già in carcere Franceschini dice noi non sapevamo sparare e ci siamo sparati sui piedi le armi delle Brigate Rosse in Viafani si inceppano tutte chi spara? i brigatisti dicono tutto noi noi riusciamo a dimostrare come commissione che lì rispetto ai brigatisti che dicono che c'erano quattro di loro c'erano almeno venti persone e quando viene in commissione Abubba Sam Sharif che è il braccio destro di Arafat il capo dell'OLP Abubba Sam Sharif dice a me e a quelli della commissione ma in realtà lo dice l'Italia italiani svegliatevi perché soltanto voi non avete capito che in Viafani c'era l'universo mondo e il procuratore della Repubblica di Roma Luigi Ciampoli nel 2017 scrive in Viafani con le Brigate Rosse c'erano elementi della mafia romana tra parentesi lo scrive lui la banda della Magliana ed elementi dei servizi segreti italiani e stranieri a me mi scoppia un pianto trasferisco in un artista diventato famoso il cui titolo era In Viafani c'erano anche le Brigate Rosse anche le Brigate Rosse il 14 novembre del 2014 mi arriva una telefonata io rispondo e un signore mi dice vuol sapere novità sul Casomoro vediamoci subito a me se uno mi parla del Casomoro il professore sarà contento è come chiamare Dracula all'Avis io dico venga subito e quello mi dice no deve venire lei va bene a che ora dove a mezzanotte va bene dove sul litorale di Ostia vicino Roma dove fu ucciso Pasolini che come invito non è quello della preside che mi ha invitato qui molto gentile affettuosa disponibile no dove fu ucciso Pasolini io vado a funerali di Pasolini due politici italiani andarono Enrico Berlinguer e Aldo More gli altri si stetterono lontani Pasolini era omosessuale pace all'anima sua ma non è stato ucciso nella dinamica che poi ci è stata raccontata tutt'altro ma io non c'è tempo per seguire tutte le inchieste mi hanno chiesto anche di fare la commissione di inchiesta su quello della banca Monte dei Paschi di Siena che si gettò a Siena sul Reggeni ma se fai una cosa parla bene se no non parla bene io vado a questo incontro ovviamente ragazzi il 14 novembre il mare agitato da morire non c'era una luce tutto vento la sabbia che volava arriva un signore due stampelle e una benda e mi dice onorevole c'ha paura? e io l'eroe no non è che facevo l'eroe io non avevo paura ero morto di paura e quindi disse la verità no dice no stia tranquillo dico sì sto tranquillo ma lei perché mi ha fatto venire qua a mezzanotte da solo dice io sono un suo amico dico se ne avessi dieci amici come lei sarei morto dice no io l'ho fatta venire qua perché se ci vedono insieme il primo colpo è per lei e il secondo è per lei dico interessante che cosa mi deve dire dice guardi le devo dire che la mattina del 16 marzo del 18 io che sono un giornalista della RAI che mi chiamo Diego Cimara ho fatto colazione nel bar Olivetti che il via Fani è quello che sta là le auto si bloccarono al centro e dal bar Olivetti ho chiamato Paolo Fraiese giornalista della RAI che fece le immagini se andate sul mio sito ci sono tutte le immagini del primo momento e Angela Buttiglione che stava al TG1 a me mi prese un colpo perché gli atti della magistratura dicono che il bar Olivetti era chiuso per fallimento quello dice che lui ha telefonato e dice che prima di telefonare stavano delle persone vestite da avieri che parlavano un inglese tedeschizzato tenete presente che Bettino Craxi fu il primo a dire che in via Fani c'erano tedeschi e avevano ragione perché una ragazza che studiava lingue e che lavorava in via Fani alla Pari mai interrogata dalla magistratura in questi 40 anni ha detto a noi che c'erano quelli che parlavano actung 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 quindi tedeschi quel signore Diego Cimara io gli inizi ma scusi ma perché lei è bendato dice no io sono bendato perché non c'ho il cranio come non c'è il cranio dice sì c'ho un tumore al cervello e quindi ho quando gli ho fatto gli auguri il 24 dicembre a Natale ha detto a me per me il tuo ironizzava mi hanno tolto la 104 che è la legge che dà la possibilità a chi sta male di essere aiutato dai parenti e a casa mia ho trovato 18 cimici che non sono i pidocchi le cimici sono che consentono ai vizi o ai carabinieri di ascoltare le telefonate su e quello che dice alla casa e io gli ho risposto con un tono forte chi le ha messe controlla la moglie che volevo dire invece controllare a te controllasse la moglie che cosa sta facendo in questo momento perché noi dobbiamo alzare sempre il tiro rispetto a chi delinque noi facciamo le indagini e che cosa scopriamo sul bar Olivetti che all'epoca viene scritto che è chiuso chi va nel bar Olivetti nei giorni precedentemente al rapimento Camillo Guglielmi colonnello vice comandante generale di Gladio tenete presente che la magistratura sulle stragi italiane scrive che la dinamite non è in disponibilità delle forze armate italiane ma di Gladio poi ci va Massimo Carminati Roma mafia capitale ci va Tano Badalamenti mafioso quello che fa uccidere il 9 maggio 78 a Cinisi un giornalista di Radio Out Peppino Impastato poi ci va Frank Coppo un mafioso siculo americano che negli anni 70 va a fare una rapina in banca a New York ruba 10 miliardi e li trasporta perché la la banca ha una cassaforte dove si entra dentro e lui trasporta soldi e li mette fuori ad un certo punto lui non sa che la cassaforte la porta si chiude a tempo la porta si chiude lui non riesce ad uscire rimane fuori con due dita nella chiusura della cassaforte la porta di ferro quindi immaginate il dolore lui non se ne può andare scatta l'allarme sapete che fa prende il cortello si taglia le due dita prende 10 miliardi e se ne va Frank Coppola detto tre dita dopo di che preside parlo in codice positivo nel bar Olivetti ci va un signore Renatino De Pedis che è il capo della banda della Magliana uno che fa uccidere 60 persone viene ucciso a 32-33 anni e viene seppellito un cimitero importante di Roma il Verano al Verano ci sta Berlinguer Togliatti Mastroiani De Sica un cimitero importante la moglie non contenta che il marito sta al Verano va dal cardinale Poletti che è il vicario del Papa iscritto alla P2 non è Papa Poletti e gli dice mio marito aveva espresso il desiderio di essere seppellito nella basilica pontificia di Santa Polinare che è come dire la Porzuncola San Francesco di Assisi quello è il capo della banda della Magliana gli danno il permesso di sepoltura lì e mentre voi mentre noi mentre l'Italia canta finché la barca va lasciamo andare tanto è successo a un altro a me che me ne frega non è così il morto capo della mafia romana viene seppellito nella basilica pontificia dopodiché arriva un sacerdote di campagna che non sa parlare l'italiano che si chiama Bergoglio e dice al morto tu per indegnità te ne devi andare perché qui non puoi stare perché tu sei un criminale e il morto viene seppellito al cimitero ma gli italiani l'avrebbero fatto stare lì 200 anni quando in commissione viene un generale dei carabinieri di Foggia che è quello che rispetto al giudice che chiede l'arresto dei coniugi Olivetti di proprietari del bar questo generale scrive i coniugi Olivetti sono introvabili quando viene in commissione io metto fuori una carta durante l'interrogatorio e dico scusi generale 878 mi dice qualcosa dice no il numero di telefono era diverso dico io dico io che cos'è 878 e la tessera di iscrizione della P2 è sua dice ma io non sono mai stato iscritto alla P2 si dico anche quello che abitava vicino a Colosseo abitava là e non sapeva che abitasse là succede sempre così in Italia colonnello Cornacchia era iscritto la P2 chiaro e disse che i coniugi Olivetti erano introvabili il 16 marzo 78 il presidente del consiglio dei ministri Giulio Andreotti fa al TG1 una dichiarazione il governo ha deciso di non trattare con le brigade rosse agli atti del governo questa decisione non c'è da nessuna parte ovviamente l'abbiamo scoperto noi dopo 40 anni il senatore Ugo Pecchioli del partito comunista il 16 marzo va da Francesco Cossiga ministro degli interni e dice per noi comunisti Moro è morto in via Fani indipendentemente da quello che sarà il rapimento i 55 giorni che vanno dal 16 marzo al 9 maggio sono i giorni nei quali i ragazzi come voi io ci avevo meno di 20 anni invecchiamo perché noi non siamo nati con la guerra con la resistenza noi siamo nati in pace in quel periodo era una tragedia la televisione ogni giorno morti poliziotti carabinieri politici magistrati giornalisti si sparava e si uccideva dappertutto nei 55 giorni l'Italia dà il peggio di sé quando la giornalista mi ha chiesto che ha fatto l'Italia nei 55 giorni voi immaginate il procuratore generale della Repubblica di Roma Pietro Pascalino dice la polizia la polizia nei 55 giorni ha fatto operazioni di parata per tranquillizzare la popolazione non per cercare moro il verbale di perquisizione di un appartamento di Roma via Gradoli 78 che era il quartier generale delle Brigate Rosse dove dentro stavano Moretti e la Balzarani il verbale riporta su polizia di Stato carta intestata e poi il verbale della perquisizione che non fu fatta che cosa voglio dire è come se voi trovaste una disposizione della preside datata 1970 quando lei andava all'asilo il termine polizia di Stato è successivo alla riforma del 1981 prima si chiamava servizio di pubblica sicurezza quindi il verbale di via Gradoli è stato fatto dopo il 1981 è chiaro? falso a noi a noi ci dissero comunicato numero 7 il comunicato numero 7 delle BR dice che Moro è morto e l'hanno messo nel lago della Duchessa vicino a Rie andarono i sommozzatori perché il lago era tutto ghiacciato noi che cosa scopriamo? che il comunicato numero 7 non lo fanno le Brigate Rosse lo fa la banda della Magliana la banda della Magliana dà alle Brigate Rosse le armi le targhe i contrassegni falsi di Bolli e l'assicurazione ma chi lo concepisce il comunicato numero 7? un magistrato Claudio Vitalone che dice che Moro è morto e serve per attutire l'impatto psicologico degli italiani quando Moro è morto veramente nei 55 giorni succede di tutto di più tutti con il partito della fermezza con le Brigate Rosse non si tratta io mi vanto di aver scritto un articolo a 19 anni nel quale dicevo che bisognava trattare per la liberazione di Moro perché Moro a noi all'università insegnava che la persona viene prima dell'ottata state attenti ragazzi lo Stato italiano facendo bene ha trattato sempre ha pagato quando i nostri italiani sono stati rapiti all'estero abbiamo trattato per Cirillo abbiamo trattato per il generale Donger abbiamo trattato per tutti tranne che per Moro che cosa succede nei 55 giorni nel ministro degli interni ci sta un comitato che cerca Moro 40 persone tutti iscritti alla P2 e in questo comitato c'è uno del KGB e l'altro della CIA quindi CIA KGB P2 stanno sempre in mezzo viene intervistato Steve Pikzenik in una rivista televisiva noi la requisiamo perché è una prova Steve Pikzenik è il consulente del ministro degli interni alla domanda dice che cosa avete fatto per salvare Moro lui risponde abbiamo fatto di tutto per salvare l'Italia Moro lo abbiamo fatto uccidere per salvare il paese come? l'avete fatto uccidere? sì abbiamo sacrificato Moro perché dovevamo salvare il paese dice lei vuole aggiungere qualche cosa? sì che dopo il secondo comunicato delle brigate rosse io mi sono accorto che nel comunicato delle brigate rosse c'erano le cose segrete che dicevamo nel comitato dei 40 che cercava Moro al che abbiamo ridotto il comitato a 20 ma il terzo comunicato delle brigate rosse conteneva le cose segrete che noi c'eravamo detti nel comitato siamo andati avanti abbiamo ridotto a 10 a 4 alla fine abbiamo ridotto a 2 il comitato io e Cossiga il ministro degli interi il comunicato successivo conteneva le cose segrete che c'eravamo detti io e Cossiga Francesco Cossiga presidente della Repubblica viene intervistato da Radio Radicale e da Tele Dublino tre mesi prima di morire la domanda è presidente chi vorrà incontrare nell'aldilà e Cossiga risponde Aldo Moro il mio miglior amico gli devo chiedere scusa perché quando con Pecchioli abbiamo deciso di non trattare con le brigade rosse noi sapevamo che Moro sarebbe stato ucciso presidente Cossiga perché lei pensa a morire Andreotti è più anziano di lei di 10 anni io voglio morire perché devo pagare la colpa di aver ucciso Aldo Moro tutto registrato in video e quindi prove Andreotti ha fatto il patto col diavolo camperà 100 anni passiamo al 9 maggio perché se no stiamo fino a domani il 9 maggio Aldo Moro viene trovato morto viene trovato morto nella Renault di un contadino marchigiano che si chiamava Filippo Bartoli questo contadino viene arrestato nonostante abbia fatto la denuncia di furto dell'auto alla polizia questo contadino 5 anni fa prima di morire mi chiama e mi dice onorevole le affido una mia volontà mi hanno offerto 300.000 euro per la Renault nella quale fu trovato Moro io non divento ricco vendendo il luogo nel quale è stato trovato il cadavere di Aldo Moro regalo questa Renault allo Stato quello della resistenza e la la Renault oggi sta al museo della polizia che cosa ci hanno detto per 40 anni che Parigi era capitale della Germania volgarizzo ci hanno detto che le Brigade Rosse hanno rapito e ucciso Moro e l'assi è chiuso io ho spostato Parigi dalla Germania in Francia con la commissione c'è stato qualcuno che ha creato una verità dicibile a chi? a quegli imbecilli degli italiani che molte volte si meritano di essere trattati così e quindi ci hanno scritto un memoriale il memoriale Morucci Faranda che lo scrivono due brigatisti allora ragazzi stiamo a scuola se qui si parla dei promessi sposi uno dice i promessi sposi di Alessandro Manzoni la divina commedia di Dandale Chieri i malavogli di Giovanni Verga se tu mi dici il memoriale Morucci Faranda io capisco che il memoriale era uno scritto Morucci Faranda cioè il mio fidanzato non è così che cosa succede nel carcere di Frosinone Paliano dove stanno Morucci e Faranda che loro scrivono il memoriale cioè la verità sul caso Moro lo affidano una suora suor Teresilla Barillà mettono una dedica sul memoriale una dedica intestata a Francesco Cosiga Presidente della Repubblica mettono la data 1986 e la suora porta il memoriale a Cosiga la suora non può più parlare perché alcuni anni dopo va alla processione del divino amore a Roma e mentre sta in processione una macchina sbanda entra in processione e l'asfalta l'unica persona morta asfaltata nel mondo il memoriale Morucci Faranda sta scritto alla data dell'86 se voi andate sul mio sito vedete le prime manifestazioni mie del 2014 danno tutti i manifesti tutte le foto tutte le date fra vent'anni ci sarà il ci sarà il manifesto di Guglio e ci sarà la data di oggi che dice il Presidente della Repubblica sì la data è del 1986 ma io l'ho ricevuto nel 1990 assurdo i brigatisti tranne Alberto Franceschini dicono sì è vero al Presidente della Repubblica io l'abbiamo dato nel 1990 noi che cosa scopriamo primo che nel 1988 il Presidente della Repubblica ha dato copia del memoriale ai servizi segreti quindi se l'ha dato nell'88 non l'ha avuto nel 1990 secondo che il memoriale Morucci Faranda non è stato scritto da Morucci Faranda ma da Remigio Cavedon che era un giornalista che faceva il direttore del giornale il popolo della democrazia cristiana terzo che il memoriale Morucci Faranda non l'hanno scritto Morucci Faranda ma l'ha scritto Francesco Cossiga Presidente della Repubblica Ugo Pecchioli del Partito Comunista i magistrati Imposimato e Priore che hanno costruito la verità dicibile finalizzata a chiudere il caso Moro e il terrorismo italiano dicendo a quegli imbecilli degli italiani una verità accettabile su questa verità accettabile la magistratura fa i processi sentite la dinamica della morte di Moro però qua state attenti perché stiamo parlando di una persona che viene fatto a pezzi anche se nessuno lo sa la domanda la fa il magistrato rispondono i brigatisti sta scritto nel memoriale poi vi dico quello che scopriamo noi di domanda in domanda a che ora avete ucciso Moro 6 e 30 la scoperta è 4 e 35 con quanti colpi avete ucciso Moro 10 la scoperta è 12 quanti colpi erano silenziati 10 la scoperta 9 è morto sul colpo si la scoperta è che i RIS vengono in commissione portano l'abito di Moro e producono su questo bavero un rigurgito salivare deglutito da Moro 40 minuti dopo essere stato sparato ma da Moro vivo tenete presente che i nostri RIS sono i migliori del mondo sul comodino della stanza di Gabriele D'Annunzio al vittoriale c'era una bottiglia di acqua minerale di vetro la plastica allora per fortuna non si usava e c'era un'impronta di un indice da questa impronta i RIS ha individuato dopo oltre 70 anni l'ultima donna che ha dormito in quel letto e ha avuto un rapporto sessuale che cosa ci dicono i RIS che Moro è morto 40 minuti dopo di agonia ha perso 900 centili più di sangue i 12 colpi con i quali lo hanno sparato non hanno toccato il cuore lambivano il cuore Moro viene trovato nella Renault lo vedete vedete che la mano sinistra non si vede perché c'è l'acqua dietro la mano posizionata qua dietro ha questo dito sfregiato da una pallottola i brigatisti dicono di averlo sparato nell'auto se tu spari uno come sta Moro nell'auto i colpi vanno dall'alto verso il basso Moro è stato ucciso da una persona che è sparato dal basso verso l'alto e che era più basso di lui che era alto un metro e settantotto se tu hai questo dito ferito sulla fondo schiena significa che per ferirsi il dito il colpo è entrato davanti ed è uscito da dietro non ci sono colpi che escono da dietro i colpi sono tutti intorno al cuore allora i brigatisti dicono un'altra via dove l'avete ucciso nel garage di via Montalcini un appartamento di Roma noi prendiamo la Renault la portiamo in via Montalcini e la mettiamo come la magistratura e i brigatisti dicono che stava la Renault il cofano vicino al muro la sala la sala cinesca abbassata i brigatisti dicono che il muro è entrato nel cofano e la sala cinesca è abbassata la macchina non si può aprire perché siccome lo spazio è angusto e il cofano si alza così basculante se non allontani la Renault un metro e mezzo dal muro il cofano non si apre ma per allontanare la Renault dal muro devi aprire la sala cinesca ma i brigatisti dicono che la sala cinesca sta aperta i RIS sparano nel garage i colpi quelli silenziati si sentono al terzo piano del palazzo quelli non silenziati si sentono a 500 metri gli interrogatori del 9 maggio 78 dicono che i condomini non hanno mai sentito un rumore il 9 maggio 78 qual è la migliore definizione del caso Moro delitto di Stato no io c'ero non ucciso Moro delitto di abbandono perché è abbandonato da tutti delitto di abbandono è il titolo del Corriere della Sera del 9 maggio 79 lo scrive un rettore Carlo Bo dell'Università di Urbino un grande uomo delitto di abbandono no Moro fu abbandonato anche da pezzi della sua famiglia pezzi della sua famiglia c'è una intercettazione c'è una registrazione telefonica se volete andate sul sito mio documentazione la trovate nella quale il figlio di Moro dice a Giovanni Spadolini presidente del senato mio padre è stato drogato e le lettere non sono imputabili del mio padre e il presidente del consiglio Andreotti dice le lettere di Moro sono moralmente irricevibili Moro gli rispondo dal carcere presidente Andreotti lei passerà alla triste cronaca che le si addice la storia è un'altra cosa lei è un uomo cinico senza mai un momento di umana pietà l'Italia disse che Moro era pazzo e che Moro era pazzo perché conveniva delegittimarlo nell'ultima pagina della relazione Moro io ho fatto inserire una parola Moro martire laico perché Moro non è che fu soltanto ucciso si tentò di distruggerlo si tentò di distruggerlo psicologicamente ma si tentò soprattutto di distruggerlo nell'immaginario degli italiani che gli volevano bene e per dimostrare che tutto quello che ho detto è vero sentite che cosa gli fa un pezzo del nostro stato nel 1978 l'autopsia si fa tagliando qui e tagliando qui una V si mettono fuori fegato polmoni milza pancreas cuore poi si taglia qua dietro e si mettono fuori i reni poi si taglia la testa e si mette fuori il cervello esaminando tutta questa roba si capisce come dove in che modo una persona è stata uccisa o si è uccisa in commissione noi abbiamo la possibilità di vedere le immagini dell'autopsia di Moro non sono belle immagini è Moro fatto a pezzi io vedo anche due fotografie che sono coperte chiedo a Iris che lavorano per noi di farmi vedere queste due fotografie che loro ovviamente non hanno fatto vedere perché ci potrebbe essere qualcuno che si spaventa a vedere queste fotografie sono Moro nudo davanti e Moro nudo da dietro hanno un particolare anomalo c'è addosso un passamontagna innanzitutto questo passamontagna è colore rosa pesco un colore insolito per il passamontagna secondo è un passamontagna che gli arriva sotto l'ombelico sproporzionato ed è un passamontagna che non ha i buchi gli occhi del naso siccome San Tommaso era uno credente rispetto a me io chiedo al generale di spiegarmi perché a uno che l'hanno ucciso gli sta facendo l'autopsia gli metti il passamontagna è una cosa e lui mi dice onorevole non è un passamontagna e preparatevi alla risposta Moro è stato scuogliato quella che lei vede è la pelle che gli è stata abbassata fino all'ombelico davanti e da dietro perché nel 78 per dimostrare che una persona fosse stata drogata bisognava esaminare questa parte oggi basta un tampone Moro è stato scuogliato cioè noi siamo arrivati a fare questo pur di dire che era drogato e capete che cosa è venuta fuori che non ha mai assunto un milligrammo di sostanze stupefacenti e dove dicono i brigatisti e il memoriale che Moro è stato in una prigione via Montalcini di due metri e ottanta da qui alla bottiglia larga un metro e venti un metro e venti e questo più dieci centinaio tenete presente che Moro ha 61 anni e che oggi la corrispondenza per la migliore qualità della vita è 75 se tu prendi un signore di 75 anni oggi e lo metti in questa prigione e lo fai stare due mesi quando esce l'autopsia dice che le ossa di Moro sono in condizioni eccellenti Moro è abbronzato nel 78 le lampade non esistono le pa non esistono Moro ha addosso otto peli di cane di grossa taglia e dove ce l'aveva il cane sotto al letto Moro ha addosso due capelli di 14 e 18 centimetri colore rosso ma la carceriera di Moro ha i capelli neri a caschetto come la signorina che sta seduta in prima fila e i capelli rossi di 14 e 18 centimetri la signorina Braghetti non ce li aveva come si lavava Moro in una bacinella una volta alla settimana se tu prendi un uomo di 61 anni allora lo tieni 55 giorni e lo fai lavare una volta a settimana in una bacinella quando esce c'hai i pidocchi Moro ha condizioni di pulizia del corpo eccellenti quindi il racconto delle Brigate Rosse anche sulla Prigione viene smontato il memoriale Morucci-Faranda è completamente falso è una verità costruita a tavolino da pezzi dello Stato italiano prima di chiudere con una fase costruenza una persona a voi nota di risparmio tanti particolari che si è intersecata con il caso Moro e che poi è stata uccisa dalla mafia era il generale Carlo Alberto dalla Chiesa il soprannome del generale Carlo Alberto dalla Chiesa era Amen il generale Carlo Alberto dalla Chiesa aveva fatto domanda di iscrizione alla P2 il fratello il generale Romolo era iscritto alla P2 il generale dalla Chiesa viene ucciso dalla mafia ma non per motivi di mafia perché nel carcere di opera a Milano Totò Riina il capo dei capi intercettato da un drone un aeroplanino che fa le registrazioni ma un aeroplanino grande quando alla domanda di un criminale pugliese che c'ha Seier Gastori lui ce ne ha 24 il pugliese Alberto Lorusso da Montemesola gli chiede Totò ma noi perché futtimmo la produzione per il risparmio ma è un insulto ingiusto e non vero per fottergli le carte del domoro tenente presente che l'omicidio dalla Chiesa è il primo nel quale la mafia uccide una donna la signora Emanuela Setti di Carraro viene uccisa perché ha in tasca le chiavi di casa e della cassaforte dove abita dalla Chiesa a Palermo alla prefettura la mafia arriva in prefettura prima del procuratore della Repubblica che arriva un'ora dopo quando il procuratore della Repubblica arriva in prefettura la cassaforte è stata aperta e dentro ci sono armi e soldi che cosa manca? ce lo dice la suocera della Chiesa mancano le carte di Moro e le bobine degli interrogatori di Moro perché dalla Chiesa generale dei Carabinieri c'ha là questa roba? Non lo sapremo mai perché purtroppo l'hanno ucciso ma dalla Chiesa da dove prende questa roba? da via Montenevoso a Milano un covo delle Brigade Rosse e da via Fracchia a Genova un altro covo delle Brigade Rosse nemmeno un generale dei Carabinieri può rubare corpi di reato non è nessuno nemmeno dalla Chiesa dopodiché dalla Chiesa viene ucciso per questo noi interroghiamo con video film perché questa è una bomba che ci avrebbero contestato noi interroghiamo il maresciallo Angelo in Candela capo del carcere di Cuneo che è un carcere di massima sicurezza nel 78 sentite che cosa dice in Candela la scoperta del covo di via Montenevoso a Milano e l'arresto dei brigatisti il primo ottobre 78 il 15 ottobre 78 mi chiama il generale dalla Chiesa e mi dice maresciallo a mezzanotte ci vediamo fuori dal carcere io a mezzanotte esco fuori dal carcere di Cuneo vedo una macchina mi avvicino dietro sta dalla Chiesa avanti sta un autista entro in macchina e dalla Chiesa mi dice maresciallo mi deve trovare un salame che è entrato nel carcere di Cuneo io gli dico scusi generale ma come faccio a trovare un salame tenete presente che il carcere di Cuneo è 50 volte la dimensione di quest'istituto scolastico danno 3000 persone dentro come fa a trovare un salame a quel punto l'autista gli dà la Chiesa si gira e dice generale amen gli spiego io al tuo amico dove si trova il salame e gli indica la fognatura del carcere di Cuneo il maresciallo va lì la fognatura del carcere di Cuneo ci stanno 700 bagni 800 bagni quindi non è che stiamo a parlare è immensa lui va a colpo sicuro e trova il salame di questa dimensione dalla Chiesa gli ha detto trovalo e portamelo ma non leggere quello che sta dentro perché dentro ci sono le carte di Moro il maresciallo che è uno dritto sgraccia e vede la grafia di Moro gli porta il salame stiamo al 15 ottobre 78 il maresciallo che è sempre un intelligente scopre essendo lui arrivato lì due mesi prima che nel carcere sono entrate delle persone lo scopre dalla carta di identità con i nomi falsi sentite un po' i nomi Tevere Po Francia Spagna Monte Rosa Adige Veneto carte di identità false capisce che quello che gli ha indicato dove stava il salame per la precisione del punto della fognatura l'ha messo lui il salame là passano sei mesi 15 marzo 79 dalla chiesa da Milano richiama il maresciallo e gli dice maresciallo venga a Milano il maresciallo va a Milano e dalla chiesa gli dà un salame e dice qua dentro ci sono le carte di Moro lei lo deve nascondere dopo fa una indagine mi chiama e arrivo io il maresciallo dice ma generale ma questo è un reato e il generale dice anche con i reati si salva l'Italia il maresciallo lo saluta e se ne va passano 5 giorni 20 marzo 79 il maresciallo in candela sta cenando nell'auditorium riservato alle guardie carcerali di Curio quando il Tg1 dà la notizia che a Roma hanno ucciso un giornalista lui per curiosità alza la testa vede il giornalista e dice santo cielo l'autista di Dalla Chiesa chi è questo giornalista? Nino Pecorelli direttore di OP iscritto alla P2 che ha scritto su OP pubblicheremo la prossima settimana le foto di via Fani dove stanno quelli che non c'entrano con le brigate rosse le carte gliele ha date il generale Dalla Chiesa Pecorelli viene ucciso il 20 marzo 1979 quando la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio del 2018 sul mio sito appariranno tutte le 200.000 pagine del processo Pecorelli che si connette alla vicenda tra gli imputati per l'omicidio Pecorelli il cui processo si è fatto a Perugia e dove c'è stato un grande avvocato perugino che ha difeso Pippo Calò il cassiere della mafia gli imputati sono Giulio Andreotti Franco D'Angeli Cano Badalamenti Marino Mannoia Pippo Calò i fratelli Salvo i fratelli Caltagirone sempre la stessa squadra sempre la stessa squadra chiudiamo in positivo questo paese non si salverà la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere io ci sarò sempre come punto di riferimento per evitare che del paese si faccia quel che se ne fa oggi attenzione ai giovani perché loro hanno le nostre colpe quelle degli adulti e i loro meriti ma senza i giovani non c'è paese non c'è sviluppo nella scuola il costo non è spesa è investimento perché senza la scuola non c'è futuro non c'è paese nel 1975 Moro nell'ultima apparizione a Bari da presidente del consiglio dei ministri alla fiera dell'evante dice durante il fascismo questo luogo era luogo di parate militare oggi è luogo di incontro tra popoli diversi nessuno è chiamato a scegliere essere in Europa e lei è il Mediterraneo perché il Mediterraneo è l'Europa e l'Europa è il Mediterraneo quando tornate a casa dai vostri amici dai vostri parenti dai vostri genitori a parte il mio affettuoso e sincero ringraziamento per l'attenzione con i quali mi avete ascoltato raccontate ai vostri amici parenti e genitori che Aldo Moro non è morto è stato ucciso e la differenza è notevole chi lo ha ucciso molto probabilmente è Giustino De Vuono un ondranghetista calabrese e la prigione di Moro non è via Montalcini ma è via Massimi 91 palazzina dello Ior cioè della Banca Vaticana gestita da Marcinkus che in via Massimi 91 c'aveva una garsognè e se Renatino De Pedis capo della Banda della Magliari si trova sepolto nella Basilica Pontificia di Santa Polinare la strada ha un nome ma per favore non mi dite il cognome e non lo dicano nemmeno i professori voi se ne volete ne parlate in aula la strada è Emanuela è lo scambio che c'è dietro la morte di quella ragazza non è tanto importante chi ha sparato è importante soprattutto chi ha omesso di salvaguardare la vita di Moro in base a principi di ragion di Stato che ne hanno imposto ad alcuni un omicidio efferato ingiusto sappiate ragazzi che non c'eravate che noi dal 9 maggio non siamo ancora usciti siamo ancora fermi lì come paese usciremo dalle sabbie mobili di quella morte quando potremo raccontare tutta la verità su all'unore il potere che non è soltanto Palazzo Chigi perché esiste un potere culturale religioso militare giudiziario ha tentato di far stare questa persona amica mite buona saggia come disse Paolo VI che ieri è diventato santo in quella Renault noi abbiamo messo fuori tutto ma in quella Renault non c'era soltanto il corpo di un uomo c'era la democrazia italiana e chi ha fatto sì che quest'uomo morisse voleva che la democrazia italiana regredisse il fatto che ci sono presidi come la vostra docenti come i vostri e che ci siete voi che completamente all'oscuro di chi fosse muro nelle scuole italiane state ad ascoltare significa che questo Paese ha la speranza di un futuro migliore grazie e buona giornata allora siete stati attentissimi e di questo io vi ringrazio forse da quando sto qua è la prima volta che vi vedo come dire un po' in collega sta abbastanza scioccante per noi adulti che stiamo qua vi assicuro penso di farmi interprete anche del pensiero dei colleghi è stato bello duro da ascoltare però insomma è un pezzo di storia con il quale dobbiamo fare i conti allora io qualcuno di voi se ha preparato se ha degli stimoli l'onorevole diciamo che ancora un quarto d'ora lo possiamo anche perché poi credo che abbia un'esigenza tabagistica da soddisfare però noi già lo prenotiamo la prossima volta nel 2020 ecco velocissimamente se i ragazzi allora no aspetta porto il microfono ho capito prima ancora che lo dicessi però allora volevo dire questo innanzitutto non sono una ragazza magari avessi la loro età ero una bambina quando ho assistito alla per televisione come penso tanti italiani alla morte no ho visto queste immagini terribili però non fa no mi sentite? sì perché io e volevo dire questo innanzitutto la ringrazio enormemente per la bellezza delle sue parole mi hanno colpito sono emozionata moltissimo grazie penso che lei sia veramente un eroe avrà paura però in lei c'è la libertà c'è il coraggio che senz'altro sono di una dignità estrema grazie per aver che posso dire in qualche modo rivalutato estremamente cioè fatto comprenderci non rivalutare ma farci capire chi era effettivamente Aldo Moro che io conoscevo amavo però in questo modo lei l'ha redento secondo me gli ha dato un respiro enorme grazie per questo per la grande bellezza e la domanda scusi però effettivamente secondo me queste parole vanno dette vanno dette perché è la nostra storia una storia che è stata massacrata secondo me e volevo dire questo che avevo sempre creduto che l'uccisione di Moro fosse dovuta esclusivamente alle brigate rosse invece lei ci ha fatto comprendere che è stata una coalizione di tanti poteri diversi ed è stata veramente anche la morte di una democrazia ecco io volevo dire questo certo ci sarebbero miliardi di domande ne faccia una perché se no ne faccio una volevo dire quale in che modo in che modo si può rendere più innanzitutto con i suoi scritti senz'altro con il suo testo con quello che lei però in che modo anche questi giovani che ne so io parlo anche per loro forse possono espandere questa memoria questo ricordo questa in che modo noi potremmo in qualche modo anche modificare un paese una cultura una società facendo comprendere questa verità che secondo me rimane anche molto sconosciuta ecco la domanda è questa sì no certo ma la domanda è questa in che modo possiamo farci forse anche la risposta è soltanto in una parola studiando e parlandone eccola facciamo una raccolta di domande poi l'onorevole risponde e poi la chiudiamo grazie preside onorevole due aspetti voglio chiederle velocemente intanto il suo rapporto con la famiglia Moro cioè se loro naturalmente penso conoscano questa storia nelle 579 volte immagino qualche volta anche loro avranno ascoltato la domanda è malposta perché la famiglia Moro non esiste più esistono i figli di Moro separati e il lite tra di loro siccome conosco le vicende giudiziarie umane e penali credo che nel rispetto del padre non sia il parlando in pubblico se lei vuol sapere di più vada sul mio sito batta sul settore documentazione testamento o spadolini e alcune cose le capirà 1991 Jeff che caso è ancora aperto di Oliver Storne che è rincostro nei film più belli 1991 il film su Kennedy no caso ancora aperto e chiedo se mai qualcuno l'ha chiesto di fare un film su questa sua diciamo ampia ricostruzione che muove dalla sua esperienza con missione guardi io le ho detto che il libro lo regalo se qualcuno vuole fare il film e mi chiama sono disponibile non è mai successo fino ad oggi? ma io non mi muovo per fare i film come non mi muovo per vendere i libri perché sul cacio moro le speculazioni sono state tali e tante che io ne voglio stare lontano io giro per passione e racconto quello che so per passione so che cinque anni fa di muore non parlava nessuno oggi ne parlano in tanti che in questi cinque anni abbiamo prodotto cento tesi di laurea abbiamo messo su delle borse di studio che vanno anche in giro per l'Italia giovedì scorso in consiglio regionale a Bari abbiamo premiato degli studenti di tutta Italia che hanno partecipato alle borse di studio Aldo Moro sono contento che rispetto all'ublio nel quale stavamo nel 2013 oggi l'Alba ci ha rischiarato dopodiché sono a disposizione di chiunque voglia la mano così come correggo le tesi di laurea gratuitamente di quelli che lavorano su Moro così come sarei disponibile a fare il film ma lo devono fare quelli io penso che fra i ragazzi conoscendo la vivacità intellettuale e culturale di alcune di loro e siccome loro sono tutti maturandi io penso che qualcuno qualche buona tesina secondo me arriva sono a disposizione per il materiale e anche per rivedere e per metterci dentro qualche cosa di personale che arricchisca il lavoro tranquillamente il mio numero sta sul sito la mia mail pure e comunque tutto quello che io so e faccio sul caso Moro lo trovate nella zona rossa del mio sito dopodiché dirvi grazie sarebbe poco grazie allora noi e chiudiamo questa mattinata così interessante la chiudiamo Gero facendo in modo che tu possa portare in Puglia un ricordo oggettivo di questa mattinata allora noi l'abbiamo spiegato abbiamo cinque indirizzi liceali di cui uno che è il nostro fiore all'occhiello psico scientifico scienze umane artistico e sportivo benissimo sono preparato è preparatissimo abbiamo i ragazzi dell'artistico che hanno preparato ovviamente loro hanno un'attività laboratoriale una manualità veramente eccezionale hanno preparato un omaggio per grazie bellissimo la sera alle 22 quando sarò a casa lo vedrete appeso a casa mia perché questi non sono solo oggetti dal valore simbolico dentro questo dipinto e questo manufatto c'è il cuore e la passione di chi li ha fatti ma c'è soprattutto l'affetto di chi ha pensato di regalarmelo grazie allora grazie io ringrazio veramente tutti ringrazio gli ospiti esterni che sono venuti perché ci hanno veramente all'età fatto piacere è una scuola aperta una scuola che si apre al mondo a voi ragazzi dico avete tutti gli input per poter continuare anche a indagare su questa storia a tutti coloro che sono collegati con noi rivolgo veramente un caloroso saluto come lo rivolgo alla parte tecnica di questa diretta di oggi che è stata curata dal professor Girlanda alla regia da Matteo Becchetti che è dietro un'altra telecamera saluto anche i vostri compagni scientifico collegati nell'altra aula ai tecnici anche dell'altra sede Giovanni Pascolini e il professor De Plano che si sono prestati anche loro a lavorare su questa parte tecnica grazie a tutti e alla prossima grazie ora ognuno in classe voi lo sapete come dovete rientrare sportivo avete la lezione di oggi pomeriggio ve lo vorrei ricordare